Michelangelo Michelangelo è un uomo in un momento della sua vita un po' difficile, un po' particolare è un momento in cui non capisce da che parte va il proprio lavoro soprattutto non capisce da che parte va la propria vita dal punto di vista sentimentale ma soprattutto non capisce da che parte va la propria vita dal punto di vista della base che è data a tutti quanti di vivere, cioè la possibilità di vivere sano e sereno e soprattutto una persona che per come è fatta tende un po' a dire che si risolveranno domani le questioni, però c'è qualche cosa che gli succede che non gli permette di dire questo questo sono io, sono di Napoli, 36 anni, sono nato l'8 dicembre, il giorno dell'Immacolata la Madonna nera, il giorno magico una donna con cui vivo che si chiama Elisabetta, scrive lei fa la sceneggiatrice ma in questo momento è un po' particolare lei mi accusa di essere una persona un po' remissiva rispetto a condizioni economiche che in questo momento non sono brillantissime, però se risolveranno io non ho problemi da questo punto di vista e niente mamma, ma quello è fatto così, ma non è colpa sua, no, la persona ha i suoi problemi, io la capisco pure perché non ti stai spruccando così? perché innanzitutto io non ho 36 anni, ne ho 31 e poi perché in questo momento è un momento particolarmente difficile e anche il corpo inizia a far vedere quanto lo è inizia a mostrare i segni di questa difficoltà è una difficoltà di rimariamento, è una difficoltà di depressione interiore non è una questione di fatti fisica, sono stronzate, sono cose che si risolvono cioè capita a un sacco di persone, non è detto che una cosa così fa male il problema è che comunque io inizio a vedere e a far vedere pure pure che non sto bene